2 minuti, un'idea Filippi, un'oraio, 3.700, da tavola, viva o rego, viva o rego, viva o rego. Vai, già, papà, ora, vogliamo oggi, 3.100, piccini. Viva o rego, viva o rego, viva o rego, viva o rego. E Evans sagbi birthday sa Marjor Madan. Oh, didi. Oh, kaya naman ahstate? Mag-mind-mind kung may extra pera. Matulog kong wala. Manol van, kong kong kisto nang makikig igad danto kasiон elasda. Uw minyong perwisyo, isisikurahan ko kayo. Alam niyo, mängedans mo maar wala. K ponto sa mag-sikimuraan. Tara niya mong nagmalay. Mahadi, tua anong mas ipinig ar 설�ê, anong mga mag-ra表 Actually, anong mga bayan ng kapal!! Oh, my God! Se voi non passi il 30% di 4.8%. Non ti sei! 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 Ok! Il primo passo! Si chi si è molto medio semplice Si chi si è molto medio semplice è un'unico 350 Pagkota nalà po' di un dip dip Kahit wala kayo dito Ok! Pagkota dip dip! 350! M E B 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